salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di sai che qui su sai che web tv intanto un saluto a tutti quanti ciao da iopino ciao da donato e ciao da valere salutiamo anche i nostri collaboratori sebastiano arianna e sara ciao a tutti allora come sapete già questo è un programma di video servizi informativi di utilità e informazione popolare quindi oggi il sai che di oggi donato di cosa parliamo del cestaio vista per tradizione ma per tradizione veramente non solo tradizione ma proprio nel sangue ce l'ha questa tradizione vero il simpaticissimo michele quindi la domanda nasce spontanea che tipo di materiale si utilizza per fare una cesta cosa sono i cornucopia cosa occorre per la realizzazione ci dà delle nozioni il cestaio vista michele innamorato di conversano in provincia di bari precisamente in puglia però prima di vedere il video se avete da suggerirci o raccontare un sai che come si può fare come appunto prenotate un incontro pre intervista anche solo per informazioni ovviamente contattate iopino potete anche incontrare donato per esempio a valeria la contattano tutti è vero non è vero i contatti li trovate sui social facebook instagram google siamo ovunque veramente iscrivetevi al nostro canale di youtube sai che è web tv e tanto è facile perché guardando sotto c'è una piccola icona così un logo sai che sta scritto pure iscrivetevi basta che passate su col mouse con il ditino chi ci guarda magari dal telefonino dal tablet il campanellino mi raccomando per essere aggiornati sui nuovi video e allora ci resta adesso soltanto salutarvi a tutti quanti e vediamoci insieme questo bellissimo video di sai che anzi sai che può interessare o coinvolgere anche te quindi vediamoci il video e alla prossima sai che ciao a tutti oggi siamo a conversano in compagnia di michele innamorato cestaio hobbista e oggi a sai che scopriamo come grazie alla natura si possono creare tante opere d'arte in passato per utilizzo quotidiano invece ai giorni di oggi utilizzati come ricordini ciao michele come stai come nasce questo hobby prima di tutto devo salutare a tutto il pubblico chi sta guardando perché è una cosa bellissima nasce questo hobby che praticamente parecchi anni fa quando mio padre viveva e noi eravamo nove figli a me piace essere sincero praticamente dopo che mio padre disse nove figli eravamo e dopo che mio padre vide così disse a me disse l'unico che ti puoi fare prendere quel locale sei tu però io non sapevo niente perché il motivo però dopo di tanti anni che lui era morto ho capito che aveva un cestino suo in ricordo di mio padre però mi è venuta un'idea per dire come l'ha fatto lui non lo faccio io e incomincio da fare questi cestini a uno a uno a uno a uno mi ci trovo già riempito questo locale però fa piacere vedere queste cose perché a me mi piace anche trasmetterla a tanta gente non vi fermate cercate di andare sempre avanti michele che tipo di materiale occorre per creare un cestino praticamente questo è un materiale che usavano i nostri anziani i vecchi che usavano a fare i cestini vai vai e praticamente si chiama il negro delle ciliegie dove vengono innestate le ciliegie che sotto poi crescono sempre questi tipi di materiali dal più piccolo al più grande però poi c'è anche una storia che praticamente questo è originale del si può fare dal mese di settembre massimo novembre invece per fare questo qui un altro tipo di materiale sbucciato ecco sbucciato praticamente si può fare solo una settimana alla fine di giugno perché la pelle cresce il legno si è stagionato e si può sbucciare come niente passato questa settimana praticamente la pelle poi incomincia a legare vicino al legno e non si sbuccia più e allora bisogna aspettare il mese di settembre per venire con la pelle però bisogna sempre utilizzare come dire la storia c'è una storia per fare queste cose che a me fa piacere trasmetterla a tanta gente per dire che i nostri genitori ci hanno fatto ci hanno insegnato per dire che la natura è la cosa più bella che c'è sulla terra allora cerchiamo sempre questo lo dico a tutti cerchiamo di fare queste cose praticamente a chi c'ha allora un'altra cosa per fare questo tipo di lavoro io glielo sto dicendo a tanta gente bisogna avere due qualità per poter fare questo parecchia gente mi dica e cosa sono? non riescono mai a trovare le parole però io alla fine glielo dico e restano perplessi allora glielo dico se avete amore e passione potete fare quello che volete ci fai vedere per favore come si inizia a fare un cestino cioè la base principale allora praticamente per fare la base principale bisogna mettere questi rametti tre giorni purtroppo bisogna tenerli tre giorni in acqua per diventare flessibile e poi alla fine esce quello che esce sono questi solo così si può fare perché se è secco spezza vedi spezza questo il ramo e non si può fare niente allora praticamente per fare questi bisogna tenerli tre giorni in acqua per fare questa base poi per crescere i cestini per fare un cestino questa vede la natura in due ore si può lavorare invece questo tipo di materiale bisogna tenerli tre giorni se no si spezzano tutti ecco perché ho detto prima lo ripeto di nuovo che ci vuole amore e passione se no non si può fare niente allora praticamente come ho detto prima che bisogna tenerli tre giorni in acqua e questo è praticamente il lavoro che viene con questi vedi sono cestini che è impossibile trovarli perché per fare questo ci vuole una passione enorme poi ho creato con questo stesso materiale praticamente quelli marroncino lo stesso che li devo tenere in acqua tre giorni e sono riuscito a creare una cosa dei piccoli cornucopio che questi purtroppo sono contro l'invidia della gente Michele ci racconti la storia del cornucopio? praticamente la storia del cornucopio deriva il Medioeva quando io ciò che ho visto sui libri si donava a una ragazza praticamente una fidanzata o qualsiasi si riempiva questo cornucopio di abbondanza di fiori di materiale cioccolatino vai vai ed era contro l'invidia della gente e prima c'erano molto apprezzate e anche adesso è molto apprezzata dalla gente solo che io sono riuscito a fare il cornucopio un po' fuori forma e la gente qualcuno quando li vede dice madonna mia vedi che gelosia c'è il gate purtroppo è così Michele vedo che ci sono come se varianti dei colori come si ottengono? allora praticamente per fare questo tipo di colore è l'ulivo e resta per sempre questo colore però non c'è una duratura forte come legno di ciliegio l'ulivo dentro praticamente non ci sono i nervi come ci sono al rametto del ciliegio praticamente questo con passare degli anni 10 20 30 anni può legare il tarlo invece questo c'è ancora qualche cesto che mi ha dato mio padre quando fu allora avranno più di 70 anni di vita pieno di polvere però stanno intatto quindi la differenza nel colore sta nel tipo di legno e con la corteccia o senza Michele grazie tantissimo per la tua storia e per la tua accoglienza fantastica allora Luca cosa che posso dire grazie agli amici di sai che e ricordatevi l'amore e passione numero 1 sai che può interessare o coinvolgere anche te grazie a tutti Grazie a tutti.